A conclusione di un'indagine, i finanziari di Bologna, unitamente al Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata con il supporto operativo dei nuclei di Polizia Economico-Finanziario di Catanzaro, Venezia, Brescia, Roma e Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari con perquisizione seguita anche in Germania. Destinatari del provvedimento cautelare in carcere sono un imprenditore di origine calabrese da tempo residente a Bologna e una persona di origine campana ritenuta continua agli organizzatori criminali di stampo camorristico. I due sono indiziati, insieme ad altri 14 soggetti, di una molteplicità di condotte delittuose, alcune delle quali aggravate dal metodo mafioso, ovvero riciclaggio, riempiego di proventi illeciti, usura, estorsioni, malversazioni di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di stupefacenti. Le indagini hanno consentito di ricostruire come l'imprenditore calabresi, potendo beneficiare di un coacervo di intrecci relazionali, abbia ricevuto nel tempo anomali finanziamenti da parte di soggetti pluri pregiudicati ritenuti vicino a consorterie criminali di stampo camorristico e indranghetistica. I soldi venivano poi reimpiegati nell'acquisizione di società e nell'acquisto di immobili auto di lusso. Si è preceduto quindi al sequestro di quote sociali, compendi aziendali, immobili ed altre utilità, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Tra i beni sequestrati anche alcune società che gestivano locali nel centro storico di Bologna, attivi nella ristorazione e nell'intrattenimento.